Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. In queste ore un'altra foto di Kate è stata resa pubblica. Si tratta di una foto che ritrae Kate nel bosco, bella, felice e sorridente. Qualcosa che ha fatto molto piacere ai fan. William come sempre in questo periodo le sta accanto moltissimo. Adesso ci si chiede quanto si potrà vedere nuovamente in pubblico la principessa e l'occasione secondo molti potrebbe arrivare presto. Si è parlato che Kate possa comparire durante la finale del torneo di tennis a Wimbledon appunto a cui ella non manca ogni anno. Un appuntamento a cui la stessa principessa ci tiene e che potrebbe essere tra quelli papabili per poter comparire di nuovo in pubblico. I sudditi e anche i suoi fan aspettano che Kate torni presto ai suoi impegni anche se in questo periodo come detto sta lavorando in smart working per la sua fondazione. Intanto è rimbalzata la notizia che Kate e William siano stati entusiasti e felici di tutti i messaggi di sostegno e conforto ricevuti dal popolo italiano. Proprio secondo queste indiscrezioni pare che la coppia si è intenzionata a fare un regalo agli italiani. Di che cosa si tratta ancora non si sa, ma molto probabilmente lo sapremo presto. Come sappiamo i due reali tengono molto al nostro paese. Infatti nella primavera del 2024 dovevano effettuare un viaggio in Italia, che poi fu sospeso a causa appunto delle condizioni di Kate. Proprio a gennaio infatti sarebbe arrivata la diagnosi di neoplasia alla principessa. Che sia proprio questa la sorpresa che i due stanno preparando agli italiani. Tra l'altro italiani sono anche gli stessi medici che hanno operato Kate.